Ragazzi, ma voi utilizzate il bonus col vittoria e il bonus col pareggio? Ne parliamo dopo la sera. Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. Oggi me ce le trovate. Oggi me ce le trovate perché è una settimana che cerco di farmi mettere la fibra, ma mi danno pacco continuamente. Questa è l'Italia, questa è l'Italia. Ma, ma, oggi video particolare sul regolamento vi chiedo un supporto in termini di like, di commenti perché mi serve la vostra opinione qua sotto, mi raccomando, ci tenco. Anche perché questo video non l'ho proposto io, ma è stato proposto da voi, da uno di voi. Perché? Vi spiego come si può fare. Su TP, la mia pagina appunto dove potete sostenere il canale e i miei progetti, tra l'altro siamo arrivati al primo obiettivo, no? Quello dell'upgrade. Siamo al 50% per quanto riguarda la creazione del sito web. Vi ringrazio davvero, ragazzi. Come vedete sulla destra ci sono le varie ricompense e con il livello Frey e anche Dennis si riscatta anche la possibilità di scegliere un argomento del video mensile e anche l'ospitato del live. Infatti, alle 17, 17.30 saremo in live con Ciampi97, che è anche, diciamo, l'ideatore dell'argomento di oggi. Ok? Che ringrazio. Volevo anche ringraziare un altro gruppetto di tippers, che sono Stefano Cortini, Daniele Pregnolato, Zaffa76, Massimiliano, Sergio Raimondo, Daniele Bancini, Checco Psaico, Luca88TL e Diego Castronovo. Davvero, grazie mille, ragazzi, del sopporto, del sostegno che state dando a questi progetti. Tra l'altro, stiamo già lavorando al secondo episodio del Fanta Cartoon. Ok? Non vi perdete nulla. Attivate la campanella, mi raccomando. Parliamo del bonus goal vittoria e bonus goal pareggio. Perché usarli? Perché no? È giusto utilizzarli quando merito toccati ci siano, aumentano la fortuna e ne parliamo con calma. Di che cosa si tratta? Vi faccio due esempi per capire come funziona innanzitutto. Partiamo, ad esempio, da Genodinese della scorsa giornata. Cosa è successo? È finita 1-1 con gol del vantaggio iniziale di Pandev e in quel momento gli scattava il gol vittoria. Fosse finito 1-0 avrebbe preso il bonus, diciamo, del gol vittoria. Anche se avesse segnato un altro giocatore, poi il 2-0 fosse finito a 2-0, il bonus goal vittoria restava solo a Pandev. Ma succede che poi segna De Paul e la partita finisce in pari. Attenzione, non prendono entrambi il bonus. Ok? A Pandev non spunta più il bonus goal vittoria, nemmeno quello del pareggio. Ma spunta De Paul, l'ultimo ad aver segnato un gol appunto in una partita finita in parità. Capite come funziona? Quindi è molto situazionale, cioè in base a come vengono all'ordine dei gol a volte. Vi faccio un altro esempio invece. Segna una squadra, un gol con un giocatore. Prende il bonus goal vittoria in quel momento. Poi segnano il 2-0, il 3-0 con altri giocatori. Poi, quindi il 3-0, magari anche il 4-0. Ok? Tu dici, vabbè, 4-0 gol inutile. E spero cosa accade? Che poi la squadra avversaria magari nel finale si sveglia. Magari finisce quindi 3-2 la partita, 4-3. Ecco, il bonus col vittoria lo prende chi ha segnato l'ultimo gol del vantaggio. Quindi è un po' strana come situazione. Allora vi chiedo, anzi vi mostro anche alcuni punti che ho preparato come appunto anche al video. E vi chiedo ragazzi, ma questo tipo di bonus, in questo tipo di bonus, quanta meritocrazia c'è? Cioè, qual è il merito del giocatore nel segnare un bonus, cioè un gol che poi vale in termini di risultato? Cioè, non è un gol comunque già, cioè il bonus non è già instaurato nel gol, il più 3 del gol. E soprattutto, come abbiamo visto, il gol di Pandev rispetto a quello di De Paul è meno importante per dare il bonus a De Paul e non a Pandev. Cioè, questo esempio è clamoroso del bonus del gol del pareggio. Possono anche capire magari quello del gol vittoria, anche se come abbiamo visto, in base al risultato e a come si sviluppa il risultato, potrebbe benissimo essere assegnato a un giocatore che magari ha assegnato un gol in un momento della partita completamente meno importante. Ok? Quindi è un po' molto molto situazionale come cosa. E quindi vi chiedo, lo ritenete meritocratica come tipologia di bonus? Ditemelo voi. Un'altra cosa che però voglio sottolineare è lo sbilanciamento. Perché un giocatore segna, se gli andiamo ad assegnare ulteriori bonus in base a quanto importante sia stato quel bonus per il risultato finale della partita, è chiaro che aumentiamo ancora quel risultato. Ad esempio, c'è stato per chi, tipo Ronaldo, ha fatto la tripletta, ok? La Juventus vince 3 a 1. Oltre alla tripletta diamogli anche il bonus gol vittoria. Ma certo, capite? È un po' strano. Io personalmente in tutte le mie leghe, cioè quelle che organizzo io, non ho mai inserito questo tipo di bonus nel gol vittoria, nel gol del pareggio. Partecipo quest'anno in un fantacalcio dove si utilizza il bonus gol vittoria a 0.5. Quindi quello del pareggio sono riuscito a farlo eliminare, perché ho combattuto in estate. Bisogna compattere per il regolamento. Quindi ho combattuto per farlo eliminare, per farli eliminare entrambi. Sono riuscito solo a ridurre quello del bonus gol vittoria a 0.5. Mi sono accontentato, mi sono accontentato. E la terza cosa che voglio chiedervi, e soprattutto che si chiedeva a Giampi, è ma questo tipo di bonus aumenta il fattore Q, cioè l'aspetto della fortuna che c'è in gioco in un fantacalcio? Perché come abbiamo visto, tutto in base a come si svolgono i gol, chi segna prima e chi segna dopo, il giocatore può ottenere un bonus extra semplicemente situazionale, non in base a un particolare merito. Diciamo così. Quindi, questo tipo di bonus, sbilancio un po' anche l'aspetto della fortuna, cioè quanto incide la fortuna nel fantacalcio? A mio giudizio, un pochettino sì, perché effettivamente non è più, non si tratta più di un bonus legato al fatto che magari quel giocatore sia importante, diciamo comunque che abbia fatto bene a livello di prestazione, ma semplicemente la cronologia, diciamo così, la cronologia dei gol in quella partita. L'abbiamo visto appunto con la situazione Pandepold. Quindi è un po' strana come situazione. Quindi sarebbe stato clamoroso, ad esempio, per chi non utilizza gli intorni o tabella di conversione, come direbbe qualcuno. Ok, quindi per chi utilizza, per chi non utilizza, quindi magari 72-71 e mezzo, ad esempio 71, finisce con una vittoria per chi fa il 72. Immaginatevi questa scena. Uno che c'ha Pandepold, l'altro c'ha De Paul. Ok, e vince quello che con De Paul prende il punto o il mezzo punto di gol pareggio. Cioè, è clamoroso ragazzi, ho sbaglio. Quindi effettivamente l'aspetto della fortuna può anche incidere in questi casi, quindi dipende anche molto da questi aspetti. Comunque anche che ci fosse l'intorno, potrebbe scattare magari quei punti, quattro punti di distacco, potrebbero comunque scattare in questa maniera. Quindi lo stesso discorso si può fare. Quindi è un po' una situazione particolare. Infatti io ho sempre evitato di utilizzarli, perché secondo me già il più 3 mi sembra una buona ricompensa, no? Per chi ha messo un giocatore che comunque poi ha assegnato. Dare anche il bonus gol pareggio o gol vittoria mi sembra una cosa un po' eccessiva. Ma voglio sapere la vostra opinione nelle sezioni e commenti, va bene? Mi raccomando. Detto questo, io oltre a leggervi tutti i commenti, perché leggo tutti, ok? Vi sorto anche a seguirmi su Instagram. Tra l'altro ho lanciato il mio nuovo filtro. Ho un filtro del Fandacufo di Carmi Special, l'ho lanciato su Instagram. Quindi dateci un'occhiata utilizzato. Taggate i vostri anche avversari. Gufate i tanti bonus e mandos al Fandacalcio, mi raccomando. E che dire, buon Fandacalcio a tutti, buona fortuna. Ci vediamo in live intorno alle 17, 17.30, proprio con Ciampi, che voleva sapere la mia e anche la vostra su questo argomento, ok? Ditemelo qua sotto nei commenti. Dai, mi abbraccio, ciao.